bella righi e benvenuti in questo nuovo video siamo qui su un'altra mod che presenta i totem come si fanno questi totem praticamente c'è questo tronco un albero bello molto bello che praticamente ha come caratteristica che ogni tanto sul tronco sono queste bellissime facce e ha un colore diverso rispetto agli altri infatti guardate qua se questa faccia così questi qua sono gli alberi che ho fatto crescere quest'albero comunque è come qualsiasi legno questo legno qua è come un qualsiasi legno perché puoi fare le scale stagionate i cancelletti gli assi di legno gli slob ma poi arriviamo alla cosa principale che sarebbero questi totem come si fanno questi totem ma partiamo dall'ultimo perché perché partiamo dall'ultimo perché adesso ve lo faccio vedere subito quest'ultimo si crafta così solo che per craftare quest'ultimo serve il totem di oro per fare questo totem serve il totem di ferro e il crafting è così ovviamente con l'oro poi c'è il totem di per fare il totem di ferro serve il totem di legno questo è il crafting e per fare il totem di legno serve questo qua che è un blocco importante per questo mod che si fa in questo modo e praticamente questo qua serve questo qui serve per praticamente tutto perché si possono fare anche questi potenziamenti qua si fanno così ognuno ha un suo crafting e vi faccio vedere cosa fanno questi totem allora partiamo da questo qua che poi è come gli altri però ha più slot liberi più capacità ed è più forte qua c'è scritto quanto è veloce da attaccare il danno che fa e il raggio adesso ve lo mostro guardate si spara però dovresti prenderli ecco poi puoi cambiare anche l'effetto dato fuoco ai maiali perché qui c'è l'effetto del fuoco poi ci sono anche altri effetti tipo come la regeneration fame veleno tipo come questo guardate e poi ci sono molto comodo e poi ci sono molto comodo e poi ci sono molto comodo questi distrutti è utile oppure anche il giocatore questo il giocatore ti da rigenerazione vedete da rigenerazione ogni 0,44 secondi vediamo quanto può arrivare questo così 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 ma tu dici ci sta attaccalo è stato attaccato questo ok due colpi mentre se faccio così e ci metto un maiale colpiscilo colpiscilo perché non lo colpisci colpisci dai colpisci ecco finalmente colpisci i maiali che bello gli fa 24 di danno sarebbe però 12 cuore diciamo che sono utili questi totem quindi mi ha fatto vedere praticamente tutto di questo mod le sue utilità quindi per questo video è tutto bello